Torniamo a parlare di campi di allenamento per quanto riguarda l'Arezzo, ci sono novità soprattutto per quanto riguarda anche la struttura che era dell'Union Tinchimera. Allora per l'Union Tinchimera c'è un fallimento in corso e delle trattative proprio di queste ore tra l'amministrazione comunale e il tribunale per riprendere in possesso e oltre che in proprietà quello che era immobile che era dell'Union Tinchimera, quindi sia le caselle sia Pratantico. Per due motivazioni, uno perché tenere un impianto chiuso è un elemento di grande problematicità, due perché in un momento in cui le società giustamente pressano per avere spazi, avere due impianti chiusi diventa anche un elemento di grande imbarazzo da parte di chi è proprietario ma non ha la disponibilità ad aprirlo. E le due cose stanno insieme perché è chiaro che questa possibilità di nuovi spazi ci potrebbe dare l'opportunità di indirizzare la prima squadra e cioè l'Arezzo nella sua parte diciamo così professionistica proprio in queste due o in una dei due impianti impianti che stiamo cercando di riprendere che io conto di riprendere, almeno di riprenderli in possesso nel giro di poco tempo, poi vedere come sono ridotti perché chiusi gli impianti non stanno mai bene e in tempi abbastanza brevi. Poi c'è una novità che abbiamo detto più volte cioè quella in base alla quale attraverso la decisione della Giunta abbiamo in qualche modo deciso di dotare lo stadio città di Arezzo di nuovi elementi di pertinenza e quindi di nuovi spazi dedicati a quella che potrebbe essere la cittadina dello sport e quindi dedicati anche agli allenamenti. È chiaro che noi possiamo ragionare in una modalità di ampliamento dello stadio anche se in una zona non esattamente limitrofa ma questo succede in molte parti d'Italia nella prospettiva di dare allo stadio più opportunità di spazi e quindi a chi gestisce lo stadio e non può che essere la squadra della città nuovi luoghi dove poter dedicare anche quegli spazi agli allenamenti. Detto questo la società è una società privata e quindi noi dobbiamo muoverci con la cautela che tutti devono avere rispetto ai cosiddetti realtà pubbliche. Noi siamo un'amministrazione, siamo un privato quindi non possiamo spendere soldi né l'Arezzo ce l'ha mai chiesto per la verità per cose che in qualche modo sono di pertinenza del privato. Altra cosa è dotare lo stadio di Arezzo di più luoghi e più momenti per poter fare gli allenamenti. Detto questo mi pare che ci sia una linea che è quella del rigore e dell'attenzione che non intendo cambiare. Il rigore è quello che non ci vedrà mai investire soldi pubblici per questioni private quanto anche legittime ma un'attenzione che ho sempre detto e abbiamo sempre detto dobbiamo non soltanto all'Arezzo Calcio primis ma dobbiamo anche alla società che sta facendo gli investimenti. Quindi chi oggi tira fuori dal cappello di far comprare al comune di Arezzo terreni privati è veramente fuori dal mondo perché io non posso spendere soldi degli aretini per cose che riguardano una società privata. Altra cosa è se come facciamo e l'abbiamo già fatto dotare lo stadio di più spazi che possano essere dedicati agli allenamenti della prima squadra. Quindi nel caso dell'ex strutturgo di Niantin Chimera comunque dovrebbe essere fatto un bando o no? Non necessariamente nel senso che noi adesso puntiamo a riprenderlo. Possiamo anche darci un anno di moratoria di gestione diretta e successivamente fare un bando anche perché quell'impianto va completamente analizzato rispetto ai beni ma anche a ipotetici abusi che potrebbero esserci. Quindi non lo sappiamo, non lo gestivamo noi. Quindi sono due partite diverse che stanno insieme. La partita di Niantin Chimera è una partita che sta rispetto a una società che è stata dichiarata fallita e quindi questa amministrazione intende riprendere il possesso di quei beni affinché possono essere rimessi a disposizione della città. Tra la città c'è, sportivamente parlando, ovviamente Arezzo Calcio che è in questo senso uno dei primari interessi della città di Arezzo. E per Sant'Andrea Pigli invece, che era quello che si parlava prima, diciamo di strutture che saranno annesse allo stadio, che tempistica si può prevedere? Sant'Andrea Pigli è una tempistica non breve perché come tutte le cose serie ci vuole tempo per farle. Cioè qui noi non vogliamo trovare soluzioni farlocche o soluzioni immediate che però rispondono all'emergenza. L'emergenza c'è e questo è un fatto e lo affrontiamo con gli atteggiamenti dell'emergenza. Dopodiché c'è un altro fatto e cioè che lo stadio in questo momento non ha gli spazi per gli allenamenti della prima squadra che non si risolvi in un giorno ma si risolve con un investimento nostro che significa ampliare lo stadio e della società che sugli investimenti ha dimostrato di esserci, perché questo è sotto gli occhi di tutti, nel tempo. Ora io credo che siano veramente molti anni che questo problema si pone. Non si può pretendere che si risolvi in un anno, si può pretendere che in un anno si metta a fuoco e questo l'abbiamo fatto.